con maggiore verbo se vorrà raggiungere il gol del pareggio c'è secondo che va al cross direttamente dentro per la rovesciata di Moschiano gol fantastico di Moschiano che trova il 2 a 2 si coordina sul cross di secondo e di sinistro con la girata al volo la mette all'angolino nulla da fare per Basile pareggio straordinario del Lecce